allora in pratica per fare soldi non dico tanti però abbastanza bisogna andare su aggiornamenti ruoli visto che se ne si possono fare cinque tutti i giorni per farlo basta che ci metti un giocatore bronzo comune oppure ne vai a comprare uno e costano 200 crediti secondo me non spreco metterci l'argentone meglio metterci bronzini e ne puoi fare cinque tutti i giorni e questo secondo me per i prossimi cinque mesi così via c'è scritto e dopo che l'hai fatto cosa fai invio il club vai un attimo nella lista trasferimenti e normalmente cerchi giocatori che se cambi ruolo costano di più ad esempio se aggiornano tutti i giorni tutte le settimane tipo io ho visto che i coc della premier oro costano in quel momento costavano in media sui 1300 1400 così allora mi sono detto compro dei cc che però possono diventare coc prima clicchiere 3 ed è un'occhiata ho visto che c'era uno credo danese della premier che costava tipo 500 io l'ho comprato compra ora 500 però se vuoi prenderli anche l'asta 300 o 400 e c'è un profitto più grande e dopo che li hai presi fai il modificatore ruolo e li vendi molto di più come potete vedere io ho preso lui ho visto che poteva diventare coc però qua sono stati più veloce quindi dovuto cercare un altro però consiglio di prendere l'asta così il profitto è più alto e in teoria tipo qua l'ho preso a 500 lo rivendo a 1400 e sono più o meno 900 togli il 5% di tasse sono 900 fai per 5 carte sono più o meno quasi 5000 crediti se lo fai tutti i giorni ti può portare quei minimo quei 150 mila al mese oltre ai premi rival su weekend league e così via qua come potete vedere sto andando a prendere lo metto la rimodifico il ruolo e poi lo metto in vendita pagato 500 lo metto a 1.400 perché ho visto che quello è il prezzo dei cioci della premia se andiamo a vedere se l'ho venduto oppure no come se vendita 5 6 minuti fa in effetti si è venduto a 1.400 nahi eh andiamo a vedere se l'ho vendita